Sì, molto brevemente, un ringraziamento a tutti, noi dell'oratorio San Domenico Savio di Briccarasio portiamo sulla scena questo spettacolo che è molto semplice, è fatto con i mezzi semplici di un piccolo oratorio di provincia, lo portiamo però così sulla scena anche perché questo personaggio ha toccato soprattutto noi, questa sua rivoluzione della carità è stata importante soprattutto per i nostri cammini e allora lo facciamo con grande gratitudine, lo facciamo anche con il nostro grazie verso Don Primo che circa un anno fa, ad aprile del 2009, era venuto a Briccarasio e ci aveva dato una mano importante per un incontro, una serata proprio di formazione sulla figura del Frassati, quindi siamo ancora di più felici questa sera di venire qui a Santa Giulia per proporre questo spettacolo, tutto qui. Signori, a voi il benvenuto da colei che nell'eterno dimora, io divina sapienza vi porgo il saluto e mi da meno un passato ancora vivo tuttora, un giovane ha incarnato le beatitudini del Signore, da Dio conquistato verso l'alto il suo cuore. Pier Giorgio è il nome, il cognome è Frassati, giovane bastone, quanti sorrisi procurati. Racconteranno la sua vita Alfredo, il papà e il futuro papa Paolo VI, Cardinal Mordini, che nel suo cammino, premio di bontà, furono testimoni assai vicini. Ha vissuto la santità accanto al fratello, in Dio. A voi la rivoluzione della carità, Pier Giorgio sia vostro fratello, come già e mio. Grande il solco che ha lasciato immenso il seminato da un ragazzo di cent'anni fa, con parole nel servizio è stato testimone che il nostro cuore si allarga in Dio, Dio. Calamità di purezza, di interior bellezza, visse l'inno alla carità. Con un occhio verso il cielo e l'altro al fratello, fin dalla più tenera età. in Dio, Dio. Pier Giorgio, figlio mio, quanto mi manchi. Ogni giorno non posso non pensare a te. Ai ricordi che mi legano a te come un filo, invisibile agli occhi del mondo, ma visibile agli occhi del mio cuore. Pier Giorgio, tu preferivi Dodo, e più corto, e poi quel suono, Dodo. Quando avevi un anno, nacque tua sorella Luciana e tu faticasti ad accettarlo. Ricordo che una volta sei persino corso dalla mamma, gridandole, «Porta la via», sorrido, perché tu, che saresti diventato il giovane della carità, hai voluto iniziare la tua vita con un atto di puro egoismo. Certo, questo vale come prova che Santi non si nasce, lo si diventa a forza di volontà e di grazia divina. Desidera? C'eriamo su, su non perciamere qualcosa, un po' di carità, per piaci, entra vai, mi tocca il pan, il freddo, e non cammino arriva. Quante volte vi ho spiegato che dovete venire, dove lavoro, alla stampa e non a casa mia. Senta, venga domani giù alla stampa, vedrò di fare qualcosa, ma adesso basta, ora via. Per piaci, cantate qualcosa. Non conoscete proprio vergogna, se ne vada adesso. Chiodo, piccolo mio, cos'è successo? È arrivato Gesù e papà l'ho mandato via. Alfredo, ma che cosa è successo? Era solo un ubriacone come tanti, ma vedi che domani viene al lavoro e papà gli dà una mano, va bene? Su, dai, calma, ti prego. No, non bisogna. Adesso come farai? Adesso chissà che fine ha fatto. Alla fine l'ho poi ritrovato, ma di lavorare quel barbone non aveva nessuna voglia. Non te l'ho mai detto. Da piccoli, l'amore è così fragile che basta una minima crepa per incrinarlo per sempre. Ciao piccolino, come papà sono in casa? Oh, che peccato. Vabbè, ripasserò domani. Per lei? Oh, grazie. Grazie mille, ti farà un santo. Pier Giorgio, chi era alla porta? Pier Giorgio? Cosa ci fa il scalzo, eh? Dai, su, vai subito in camera. Mettiti le scarpine e sistemati prima che papà e mamma lo scoprono. Dai, su, vai. E tanti altri bei ricordi. Ma ora è meglio se ritorno alla mia lettera. Torino, 20 dicembre 1957. Eminenza carissima, Monsignor Montini. Le scrivo, seguendo con gioia il suo cammino di fede. E le confesso che mille volte avrei voluto dirle a voce i miei sentimenti. Ma sono, come lei sa, un solitario e quindi ho scelto la carta e l'inchiostro. Lei sa qual è il motivo di questa mia lettera, Pier Giorgio, mio figlio. Ho bisogno del suo amore di pastore per dare perdono ad un passato, il mio, che fatico a perdonare. Pier Giorgio era un genuino, senza maschere, amava la vita con una forza ed una volontà che non erano di questo mondo. Certo, anche io nutri dei dubbi riguardo alla sua maturazione. In particolare, le difficoltà ad apprendere alcune materie scolastiche, specialmente il latino, fecero crescere in me il dubbio di non avere in casa un erede degno del nome della famiglia Frassati. E così, alle volte, fui anche duro con lui. La vista del mondo mi annebbiò la vista del cuore. Che bello, Pier Giorgio! Giugno, l'anno scolastico è finalmente finito. Ora posso dedicarmi alle cose che preferisco. Lunghe passeggiate nella nostra follone. Già. Raccogliere fiori, aiutare mamma nei dipinti. E poi, segura papà in quelle feste, con l'orchestro e con i balli. Da grande sarò la regina, Luciana, della danza La Sorana. Te lo sei meritato, sorellina. Io, invece... Tu cosa? Cosa significa? Ma cosa è in mano? La pagella! Latino. Ma non sei riuscito a recuperarlo? Ultimamente studiavi solo più quello! E adesso? Mamma e papà non saranno molto contenti. Buongiorno, ragazzi. Allora, come sono i vostri anni? Mi contenti, spero. Finalmente avrete il giusto riposo per di tanto affaticato. Non proprio, papà. Devo consegnarvi una cosa. So che tu e la mamma sarete amareggiati per questa mia insufficienza. Anche perché mia sorella e i miei compagni mi passano avanti. Ma vi prometto che cercherò di rimediare, di dimostrare con i fatti il mio affetto per voi. Scusatemi. 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 Ma quali scuse? Non basta! Quando è che crescerai? La vita è fatica, la vita è sudore, la vita richiede che la si affronti con la schiena dritta e senza timore, altrimenti si è fregati! Figlio, io e tuo padre siamo profondamente delusi da questo risultato. Ah, è ora che tu impari qual è il significato della parola maturare. Cambierai scuola, andrai all'istituto sociale dei padri gesuiti. Là, forse, recupererai il tempo perso. Ma, papà, i compagni, le aule, i professori... Nessun ma! Così è. Va bene, così sia. Il mio Pier Giorgio era estremamente obbediente, in virtù di un amore smisurato che provava nei nostri confronti. Tuttavia, sapevo che simili rinunce gli venivano a costare sudore e sangue. Carissima eccellenza, senatore Frassati, ho ricevuto con immenso piacere la sua lettera. Che bello leggere i sentimenti che ha provato per il suo e per il nostro Pier Giorgio. Non lo conobbi personalmente, ma sono rimasto anch'io conquistato da un simile giovane. E parlo di lui ai ragazzi che incontro. Racconto di un giovane bello, di cui in questi anni la nostra gioventù ha studiato lineamente e meditato la bontà. Un modello di fratello e amico ideale, anzi, l'amico. E negli occhi di chi mi sta dinanzi vedo l'emozione, la commozione e il ringraziamento al Signore per un dono così grande. Pier Giorgio è stato l'uomo interiore che sapeva ammirare le opere di Dio nel mondo esterno e che sapeva volgersi da questo mondo a quello invisibile. La sua fede si nutriva dell'essenza stessa del cristianesimo. Dio c'è e la preghiera è la bussola dell'esistenza. Lui si è fatto, povero in spirito, perdonarsi totalmente ai poveri di Cristo e ai suoi amici. Sapesse quante imprese udito su quei tipi loschi. Solo i soprannomi che si erano andati fanno già sorridere. Pier Giorgio era Robespierre. Marco era Petronio. Franco era Perrot e così via. Nomi poco credibili per amici incredibili. Compagnia Tipi Loschi! Boom! Compagnia Tipi Loschi! Boom! Boom! Compagnia Tipi Loschi, pronti a partire? Boom! 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 Robespierre, pronto a soffrire? Sì! E perché mai? Salgo sul colle, scia ai piedi, linguaccia ai lestofanti, sorriso alle lestofantesse e poi tanti saluti. Salutaci pure, ma quando arriverai a valle sarai congelato. Dove vuoi andare con questa giacchetta? Eh, ma sai, il gelo conserva bene, no? Ma perché non hai preso il cappotto come tutti? Oh no, io sono un vero montanaro, tempraforte, mica come te, Petronio. Ma Pier Giorgio non pare l'incosciente, tanto il treno parte fra un'ora, hai tutto il tempo per tornare a casa. No, intanto facciamo il biglietto anche per te. Sì, così mia madre e poi mio padre mi ammazzano senza pensarci due volte. E di cosa dovrebbero preoccuparsi? Del cappotto che non ho più. Ora ci sono. Mentre venivo qui a Porta Nuova, ho visto un barbone sul marciapiede, con un cappotto che mi pareva di aver già visto. Già, era il tuo. E l'hai dato venendo qua, non è vero? Hai ragione, hai ragione. Quando lo scoprirà tuo padre ti ammazza. Va bene ragazzi, salutiamo tutti il nostro Robespierre. Mi sa tanto che non lo vedremo più. Per il destufante Robespierre! Boom, boom! Dai Pier Giorgio, muoviti, che se perdiamo il treno non arriveremo in Balsusa, in tempo per la messa. E allora sì che li inizieresti ad andare in crisi. Quindi ora ragazzi, preghiamo affinché tu ritorni qui con noi, e se ne salvo è con un altro cappotto. Infatti a portarlo via, eh. Beh, comunque ci sto. E mi raccomando, biglietti terza classe. Segretaria, confido nella sua serietà. Stai tranquillo. Grazie. 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 Decretiamo il patto che nel cuore nostro Verso la tristezza non c'è nessuna pietà Noi tipi lozchi, ai nostri posti Ora si parte, sempre più in su, sempre più in su Sempre più in su, sempre più in su Da te non farai nulla, ma se Dio avrai per centro di ogni tua azione Allora si, arriverai fino alla fine Fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine Fino alla fine, fino alla fine Fino alla fine, fino alla fine In Dio Sacro Alfredo che cosa colpiva di più il suo figlio? La capacità di vivere sempre nella gioia e saper passare da momenti di preghiera e di raccoglimento interiore a momenti di scherzi assordanti e rumorosi. Lui camminava per le vie del mondo con le braccia aperte e con una mano teneva la mano di Dio mentre l'altra era tutta protesa verso chi gli stava accanto. Certo, se la mano era quella di un amico allora questi doveva fare attenzione ai suoi scherzi a volte un po' grossolani. Forza Tepiloschi, la meta è ormai vicina. Boom! Aia! Ma sei impazzito? Ma no, era Vespierre. Non ti ricordi perché adesso soffrò un nome? fermo, incorrottibile e dalla mano pesante. E poi dai, solo tu caschi ancora i suoi scherzi. Hai proprio ragione, Petronio. Oh, oh, guarda là! Un camoscio! Boom! Ah, visto Danton, il nostro caro amico Petronio è furbo come una volpe, imbalsamata. Basta ragazzi, io non ce la faccio più, non mi sento più le gambe. Io mi fermo qui. Ma l'estofante, cosa fai? Non vorrai mollare proprio ora. E che sono a pezzi. È da tre ore che camminiamo e da due ore e mezza che continuo a dire che siamo quasi arrivati. Basta! Ti porto il lozaino, dai. No, questa volta no. Ma che ti costa, scusa? Ci fermiamo dieci minuti e poi ripartiamo. Fammi giungere al rifugio ancora intero. Va bene, dai. Pier Giorgio, cosa hai fatto ieri sera? Non c'eri alla riunione? Ero a un'adorazione alla chiesa di San Domenico e durante la preghiera ho pensato a voi. Oh! Fate i seri! Pensavo che in questa mia vita, dopo quello di mia sorella e dei miei genitori, l'affetto più bello è il vostro. E io voglio ringraziare ogni giorno Dio perché mi ha dato amici così buoni e amiche che mi sono guida preziosa per tutta la mia vita. Dai, che mi commuovi quando parli così. Ah, non ascoltarlo. Un ragazzo non si deve vergognare se ogni tanto tira fuori il suo lato sensibile. È normale farlo. Guarda, a volte penso sia impossibile parlare con un gruppo di maschiacci roggi. Tanto sanno fare solo boom, boom, boom e poi vengono messe alle porte dei circoli perché sono casinari, vero? Che imbarazzo l'altra sera! Quasi non volevo conoscervi. Ah, è che non comprendono il nostro umorismo. Siamo troppo moderni noi. Beh, comunque non cambiamo discorso. Stavamo parlando di cuore tenerone Pier Giorgione. Raccogliamo margheritine e porgiamolo nel nostro cuore d'oro. Va bene. Forza in piedi, ragazzi. Dai, così giungiamo a Cogna e ci riposiamo e domani andiamo alla conquista dell'agrivola. Sì! Manco morto. Io ti aspetto a rifugio. Ora alzati, brontolone. Ah! Vieni gionco, vieni gionco, basta! Non ce l'ha fatto più con i tuoi scarpi. Ah, ogni scusa è buona. Mianca vuole agruppesse le scarpe. Dai, vengono. Mia cara Eminenza, Dalle parole che mi ha scritto, pare che lei abbia conosciuto mio figlio meglio di me. Ha detto bene. Gli amici erano il bastone con cui scalava le ripide vette della vita. Alle volte a casa capitava che subissero improveri ingiusti oppure lunghi silenzi di disapprovazione perché né io, né mia moglie, né anche la sorella Luciana sapevamo di questa sua seconda vita. Ma con gli amici era diverso. Con loro era un solo cuore. E allora mi piace pensare che le indelicatezze che subiva a casa fossero in qualche modo compensate dai sorrisi di questa giovane compagnia. specialmente nelle lunghe giornate che trascorrevano in montagna. Ah, che gioia. Sentite il profumo della montagna. Ogni giorno che passa mi innamoro sempre più di questi luoghi. Ah sì, soprattutto se pensiamo a cosa ci attenderà a Torino. Studio, studio e ancora studio. Hai proprio ragione. So già che in quei momenti vorrò essere quassù e contemplare così la grandezza del creatore. Guardate i ghiacciai. Tutti questi panorami magnifici offerti dalla natura. Dovresti fare fotografo Pier Giorgio. Riesci a descrivere così bene quello che è nella mente. Potessi farvi vedere quello che ho nella mente. Ma soprattutto qui nel cuore ho un desiderio fortissimo di sole di salire su in alto, di andare a trovare Dio in vetta. E da lassù contemplare tutta la sua creazione. Quanto è grande e meravigliosa. È proprio vero, fa venire il batticuore. Ma che è il batticuore? Sono le vertigini e la paura di cadere. No, è il batticuore che abbiamo quando ci riscopriamo innamorati. E noi siamo innamorati del Signore. Ma tu non hai mai paura durante le scalate? Hai visto la fine di quel ragazzo che si chiamava Lorez? Purtroppo si è ucciso per disgrazia al Chateau des Dames. So che sarà la sorte che capiterà a me tra qualche anno. E quindi, morale, quando si va in montagna bisogna sempre andarci con la coscienza pulita. Perché non si sa se si fa ritorno. Però, nonostante questo, non mi spavento, eh. Anzi, desidero sempre più scalare i monti, raggiungere le punte più alte, provare quella gioia pura che solo in montagna si ha. Sì, Pier Giorgio. Di seguirti fino a su non ci pensiamo neanche, ma possiamo accompagnarti con la tua ospetta preghierina. Non è poco. Beh, per me è tutto. E anch'io state certi. Quando raggiungo le vette, porto sempre al Signore i vostri volti. E gli ricordo le anime di quei poveri alpinisti che sono morti, cercando di avvicinarsi al cielo. E per noi, scommetto un Ave Maria. E per le anime dei defunti, il De Profundis. Sì. Cosicché possiamo essere tutti assieme una famiglia e camminare passo dopo passo verso l'alto. Oggi grido dal profondo il tuo orecchio si attento la mia voce come vento giunga a te da questo mondo Oggi grido dal profondo supplica che senza tempo cogli questa mia preghiera anima, attenti e spera Grido Grido che questi monti e che cino il mio campo Mossa tuo volto a noi E se pietà avrai E se pietà sarai il fratello che credevamo caduto in te in eterno vivrà Se consideri il peccato chi di noi non è perduto Tu sorgente di perdono Tu sei padre Ed ogni uomo Io ti ho cuore in te spera nella tua parola vivo Ti attendo Ti attendo mio signore sentinella e che cino il mio campo Grido 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 che questi monti e che cino il mio campo Grido 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 Pietà sarai Il fratello che credevamo caduto in te in eterno vivrà Grido 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 Grido, io grido, che questi monti e che ci hanno il mio canto Grido, io grido, non sei il tuo volto a noi e se pietà avrai E se pietà sarai, il fratello che credevamo caduto in te In eterno vivrai Signor Frassati Le devo dire che se conosco così bene le gesta dell'amato Pier Giorgio E perché ebbi la fortuna di dialogare con amici sacerdoti che accompagnarono i suoi passi Furono tanti davvero e di qualsiasi ordine Gesuiti, Domenicani, Diocesani, Salesiani E l'instancabilità che suo figlio mostrava concretamente ogni giorno Rifletteva una perseveranza spirituale rara anche nel mondo di oggi Seppi, per esempio, del coraggio che mostrò fin da giovane Nel voler a tutti i costi accostarsi alla comunione quotidiana Se non sbaglio, per ben quattro giorni Cerco di avere l'assenso della madre E alla fine vinse lui Padre Lombardi disse che Quando dodicenne gli corse incontro per annunciargli la notizia Aveva il volto luminoso E Pier Giorgio partecipava all'eucarestia Non perché se non l'avesse fatto Poi avrebbe commesso peccato Ma perché era proprio lui che non poteva farne a meno Certo Tutta questa tensione, questa carità verso i fratelli Doveva essere ben radicata nell'amore divino E suo figlio fece della sua vita una preghiera costante Con la mente, con il cuore Nelle azioni più comuni e semplici Mettendo Dio, Cristo e Maria al centro di tutto Deo, grazie, sei domenica E un po' di riposo fa piacere Ma che cos'era quel libretto che leggevi durante la messa? Il messale festivo tradotto Molto bello e utile Ma a me non basta Io voglio seguire la messa ogni giorno Credo che comprerò il messale completo Beh, una bella spesa Già, ma con qualche piccolo sacrificio ce la farò E poi ricordati sempre le parole di Sant'Agostino Credo ut intelligam, intelligo ut credam Credo per capire, capisco per credere Credo per capire, capisco per credere Non possiamo essere passivi in chiesa Dobbiamo essere consapevoli della grandezza dei suoi doni La fede che non è ragionata non è fede Ah, me le sogno di notte queste frasi Sempre Sant'Agostino Ma lo lasciassi in pace anche una buona volta Ma è lui che non vuole essere lasciato in pace Fa parte della mia famiglia E io un giorno spero di raggiungere lui Santa Caterina, Sant'Ommaso, San Paolo Ma ahimè, sono troppo debole Ciao Pier Giorgio, come stai? Ringraziando il cielo, bene Ci vediamo domani al corso di chimica applicata Certo, ma sei appena uscito dalla chiesa Non dirmi che sei andato a messa Eh, sì E quel rosario mica sarà un bigotto? No, beh, sono rimasto cattolico Vabbè, a domani, ciao Ciao Senti Marco, devo parlarti di una cosa che per me è importante Certo, dimmi Hai presente Padre Robotti, quel padre domenicano? Ah, sì, sì, ho presente Lo vediamo solitamente alle adorazioni notturne nella loro chiesa E anche agli esercizi spirituali in Villa Santa Croce E qualche volta ti ho visto chiacchierare con lui Simpatico Beh, è un uomo di Dio Solo questo conta Proprio un anno fa Mi parlò del terzo ordine domenicano Mi spiegò cos'era Di cosa consisteva E mi disse che i laici come noi Sono chiamati in questa vita A plasmare se stessi secondo lo spirito di San Domenico Testimoniando con la vita la propria fede E aiutando i fratelli nel cammino verso il cielo Ma sembri proprio un libro stampato E quindi dove vuoi arrivare? Bene Quella volta io gli dissi che ci avrei pensato E lui mi diede la regola che contiene i consigli e le istruzioni Per essere un terziario domenicano santo Ah, ho capito Anch'io Marco Il Signore mi vuole suo servo nella famiglia di San Domenico Ora Domani dirò al Padre la mia decisione E non sai che gioia Poter seguire ancora più da vicino l'esempio di Santa Caterina Figurati che aveva il dono di vedere Gesù già in questa vita E quando diceva il Gloria si rivolgeva a Gesù alla sua destra Beh, si rivolgeva a Gesù alla sua destra Diceva Gloria al Padre, a te e allo Spirito Santo Un po' l'envidio Ma se non sbaglio dovrai prendere un nome il giorno della vestizione E come ti chiamerai? Caterina da Torino? Scemo Mi chiamerò Fra Girolamo In onore del Savonarola Tu intanto prega per me So di poter sempre contare sul tuo aiuto e sulla tua compagnia spirituale Certo amico Preghiamo l'uno per l'altro Preghiamo l'uno per l'altro Il giorno in cui Pier Giorgio entrò ufficialmente nella famiglia di San Domenico Sorprese tutti gli amici Così compreso nel momento della vestizione Una luce nuova nel suo animo stava diventando visibile E veramente la sua confidenza col Signore raggiungeva una pienezza da tutti solo immaginata Era come se quotidianamente parlasse con Dio E quotidianamente con la sua vita parlasse di Dio Inginocchiandosi e facendosi piccolo nella preghiera Veniva sollevato verso le più alte vette spirituali E trasfigurato a immagine dell'Eterno La notte svella chiara la tua voce La tua parola che fa muove le cose Inginocchio Contemplo la mia vera patria Inginocchio Baglioni di eternità Grazie a tutti So io più misero essere umano Ma questo darti del tuo mi fa divino Inginocchio Inginocchio Riscopro la mia identità Inginocchio Abbraccio L'umanità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh, Pier Giorgio Attento Padre Righini, che piacere E quali novità? E da un prezzo che non ci vediamo Eh, lo studio arido Però per fortuna mi riposo grazie alle lettere di San Paolo E comunque un giorno sarò ingegnere minerario Andrò in Germania E là potrò dedicarmi ancora di più a Cristo Eh, Pier Giorgio Tu sei fortunato, ricco Tuo padre farebbe qualunque cosa per te E hai una sorellina che ti vuole bene Sì, ma che cos'è tutto questo Di fronte all'eternità? Eh, come farai A crearti una vita tua Indipendente da tuo padre Per seguire questi tuoi ideali così grandi? Beh, ho Gesù con me E non temo nulla Sa, qualche mese fa sono divenuto terziario domenicano Ma che bello Lentamente la tua vita sta prendendo forma Sarei stato felice di diventare sacerdote come lei Ma poi non avrei potuto essere a contatto con la gente Come sentivo di dover fare E allora ho capito Ho capito Eh, ho capito che ora devo spazzare via le sporcizie del mio cuore Devo confessarmi padre Vieni allora Stavo proprio andando in chiesa No Io mi confesso qui, in strada Come qui? In mezzo a tutta questa gente? Don Cogliazzi Mio padre Insiste che io Sia più presentabile ai suoi ricevimenti E non eviti sempre la vita mondana Ora vuole che prenda lezioni di ballo Io non lo so Forse ha ragione Forse dovrei dargli qualche soddisfazione in più Essere più simile a lui Dimmi Pier Giorgio Tuo padre sa ballare? No Vedi, ha fatto carriera lo stesso Vivi in pace perché tuo padre ti vuole bene Dimmi piuttosto Come va il tuo rapporto con Dio? Bene Non c'è grazia che domandi Che non venga ascoltata Gesù è in me Mi ama Mi dice tante cose Nonostante a volte Io mi senta così poco degno Del suo amore Per fortuna ha detto Sono venuto per i malati Non per i sani Vivo ogni giorno con la certezza Che da solo non riesco a fare nulla Ma con lui al centro della mia vita Posso realizzare davvero ogni mio desiderio Per Giorgio ricordati Ringraziare ogni giorno Signore per tutti i doni che ricevi Però ogni tanto Prova a fare qualche rinuncia Per lui Ma anche per le anime I colorati stanno accanto Beh Prego il rosario Così ricordo a Maria Tutte le anime dei suoi figli Non voglio dire quello Ah e le porto fiori freschi Tutte le volte che vado a trovarla Specialmente ad Europa Un posto così splendido Pier Giorgio Non fare il furbo Io intendo la pipa E tu lo sai Se la fumassi un po' di meno Tutti quanti te ne saremmo grati Ma E' colpa della mamma Madonna Mi ha fumato addosso Quando prendevo il latte E poi La Madonna gradisce di più i fiori E' una madre Con gusti da madre Se lei mi tene fra le sue braccia Chi potrà staccarmi da suo figlio? Si si Pregherò io la Madonna per te Ma che ti conceda la grazia Di ascoltare un po' di più La tua guida spirituale Ma che ti conceda la grazia Il figlio mio Criato di natura In te lo spirito di mora Riparò in lui Nella matura Per il fratello E poi sicuro Dalle tue labbra E la mia voce E con il servo del Signore Tra le tue labbra E la mia voce Dio in trattarmi la parola Piede al cielo I suoi giorni E ogni solte In corazione Dalli lo sporco Stogli il cielo Sani, ferite Piedi il cielo Dalle tue labbra E la mia voce E con il servo del Signore Dalle tue labbra E la mia voce Dio in trattarmi la parola Oh 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 Voglio confessarle una cosa nota a pochi Pier Giorgio mi metteva soggezione Non so che cosa fosse Era come se mi trovassi in compagnia Di una persona più anziana di me Tuttavia, le ripeto Pier Giorgio, mio figlio Mi metteva soggezione Ricordo che una sera tornò a casa Stanco, sporco, come al solito Io mi arrabbiai e gli diedi dell'immaturo Lui non disse nulla Solo si scusò con i suoi grandi occhi scuri Io all'epoca non sapevo Che cosa facessi in quelle mattinate Quei pomeriggi, quelle serate Quelle intere giornate alle volte Che trascorreva fuori di casa Solo vedevo che il suo impegno nello studio Era altalenante Ma quando tutte quelle persone Vennero a dirmi Che cos'era stato in grado di fare Cosa aveva fatto Io, io, dico perdonami Buongiorno Senta signora, le dovrei chiedere un favore La famiglia Magrino non c'è Possiamo lasciare questo pacco da consegnare non appena tornano? Sì, certo Sa, vorrei poterlo fare io Per dirgli che presto la loro situazione finirà Bisogna avere coraggio e tanta speranza Offrire a Dio queste sofferenze Soprattutto durante le messe Ma, scusi, come posso dire a qualcuno di andare a messa? Se io per prima non ci vado Puoi pregare se io non penso a Dio? Ma perché questo? La sua vita acquisterebbe subito un altro senso Come possiamo vivere senza la certezza che tutto contribuisce al nostro bene? Bisogna lavorare E padre eterno mica lavora al posto mio Mica dà da mangiare il mio figlio Sono io che lo invocco Non lavorerà mai al posto suo Però lavora con lei Non saprei Se non va a messa per lei Visto che sicuramente è una buona madre Ci vada almeno per il suo bambino E ascolti il Vangelo E innanzitutto così Che Dio ci parla e ci mostra la sua guida Diciamo che ci penserò Lascia pure il pacco lì in quest'angolo Appena li vedrò rientrare Vi do la mia parola che glielo consegnerò Grazie signora, davvero? Si figuri Arrivederci Arrivederci, buona giornata Bene Quindi ora signori Possiamo decidere sulla questione Che riguarda la famiglia Zanatta Dio la parola a Pier Giorgio Grazie La famiglia Zanatta È una di quelle famiglie Che mi sono state assegnate E che sto seguendo con impegno Purtroppo sta affrontando Un periodo particolarmente difficile E noi siamo chiamati a starle accanto Magari facendo qualche sforzo in più Non se ne parla Sappiamo tutti cosa combina La loro figlia maggiore Soprattutto adesso che si è trasferita a Roma È protagonista di una condotta A dir poco discutibile Sì, ma non possiamo voltare le spalle A tutta la famiglia Poi è solo grazie a un nostro intervento Che possono risollevarsi E risollevare la figlia Io sono assolutamente contraria A qualsiasi tipo di intervento Figuriamoci essere collaboratori Di simili peccati Vi prego Ricordiamo tutti quanti Ciò che hanno compiuto Nel nome della carità evangelica I nostri Don Bosco Don Cottolengo Don Caffasso Don Fa di Bruno La Marchesa di Barolo Se non agiamo Rinnegheremo le gesta di questi Santi Santi Al massimo qualcuno è beato E poi lo ripeto Io mi dissocio Abbiamo ben altri problemi ed urgenze Bene Allora possiamo mettere la questione ai voti Chi vota per il non intervento Alzi la mano Uno Due Tre Bene Direi che la maggioranza ha deciso E non interveniamo Possiamo passare No scusate Se è così Io do le mie dimissioni Da questa conferenza Non credo abbia più senso Nella presenza Addio Dai Pier Giorgio Non te la prendere Hai agito bene Solo Non sei stato capito Vedi Franco Io certe conferenze Alla San Vincenzo Le abolirei Quando vi sono persone Che preferiscono Abbandonare una famiglia Piuttosto che cercare Di rimediare al problema E' meglio Che la conferenza Non esista proprio Non perché Le persone agiscono In cattiva fede Ma perché Non è adatta Ai nostri tempi Ma adesso Cosa hai deciso di fare? Beh Continuerò ad aiutarli Per come riuscirò E tu se vuoi darmi una mano Sei il benvenuto Sono certo Che i Zanatta Ritroveranno un po' di serenità Forza Antonio Spingi il carretto Che ci aspettano Per il trasloco E chi ci aspetta? Una famiglia Di Borgodora Devono traslocare in fretta Perché sono stati sbattuti Fuori di casa Dal padrone E ora Vanno da parenti Ah E questo carretto Chi te l'ha dato? Non so Qualche settimana fa Una signora Che vi ha visto Col sacco in spalla Me l'ha indicato In un cortile E io ora lo uso Ah è così È nata la FIT Frassati Impresa Trasporti E l'esame Che dovevi dare oggi Com'è andata? Eh non l'ho dato Cosa? Ma tu sei in manto Hai studiato notte e giorno Per quasi due mesi Sì Ma poi C'è stata questa urgenza Non ti affannare Antonio Perché la vita dei buoni È breve E di fronte alla carità Non c'è esame che tenga Ricordiamocelo sempre Se non avessimo la carità La nostra vita sarebbe vuota Alcune volte È fatico comprenderti Molli tutto Per servire qualcuno Che magari neanche Ti ringrazia In posti puzzolenti Sporchi E mi domando il perché Vedi amico Gesù Mi fa visita Ogni mattina Con la comunione E io Gliela rendo Nel modo misero Che posso Visitando E servendo I suoi poveri malati Anche perché poi Attorno loro Vedo una luce strana Che noi non abbiamo Quasi divina Che mi attira E rende dolce Qualsiasi sforzo Ah beh E tornando all'esame Non avevi di fronte La terribile Teresa Assistente di chimica? Eh sì Le ho spiegato E dopo qualche tentennamento Ha capito Passerò lunedì Ah allora auguri Eh auguri In bocca al luce Forza riprendiamo il cammino C'è ancora un po' di strada Va bene Beato un furo di cuore Perché Dio Ma tutto dove Cerca il Signore Anche se è notte in te Cerca il Signore Che vive dentro te E a tocchiere al dolore Rifugio avrà Chi della pace operatore Ma ci incontrerà Con uno sguardo raggiante Diffonde luce Chi ha in sé Dove la luce è assente E fede non ce n'è Cerca il Signore Anche se è notte in te Cerca il Signore Cerca il Signore Che vive dentro te Vuoi la gioia per sempre Ma non lo sai Che la gioia ti attende Che è già qua E ti è pienso il giorno Dimora a te Signore Dignata il tuo cuore Dimora a te Signore Dimora a te Signore Il regno di Cernia Dimora a te Signore In noi in te Buona Signore Che vive dentro te Buona Signore Che soffre anche con te Buona Signore Che vive dentro te Buona Signore Buona Signore Che soffre anche con te Buona Signore Buona Signore Buona Signore Esempio di fede Coraggiosa E insieme silenziosa Perché ho detto coraggiosa? Beh Sono rimasto anch'io conquistato Dalla testimonianza Che diede quel giorno Durante il congresso Della gioventù cattolica italiana A Roma Alcuni provocatori Assalirono i manifestanti Generando confusione E provocando così L'intervento delle guardie rege Che ricevettero L'ordine di sequestrare Tutte le bandiere Anche percuotendo i ragazzi Alla fine degli scontri Si ritrovò arrestato Con i suoi amici Ma non si perse d'animo Anzi Continuava a incitarli E quando vide una guardia Che minacciava un giovane sardo Ecco che corse dall'ufficiale Che permetteva quella cosa E gli urlò in faccia Il suo nome Il nome del padre Proprietario della stampa E ambasciatore italiano in Germania Come d'incanto L'ufficiale mutò d'atteggiamento Richiamò il milite E propose a Pier Giorgio di andarsene Ma lui no Si mise in mezzo al cortile Si inginocchiò E tenendo alto il rosario Invito tutti a pregare Per coloro che gli avevano percorsi E perché ho detto Esempio di fede silenziosa Vede Nella sua vita Ha vissuto realmente Quel versetto evangelico Non sappia La tua mano destra Ciò che fa alla sinistra Nel silenzio Ha seminato l'amore a piene mani E molti sono gli episodi In cui si è dato Al prossimo senza risparmio Con bambini Carcerati I malati del cotto lengo E la bellezza di Pier Giorgio Risiedeva nel fatto Che lui voleva un rapporto Nuovo Caloroso Evangelico Con il prossimo Su Su senatore Non sia così severo Con se stesso So che la tenerezza Che provava per suo figlio Aumentò Fino a diventare Una specie di devozione Proprio negli ultimi anni Della sua vita Da quel figlio Che le sembrava Le sfuggisse di mano Lei era Intimidito E contemporaneamente Attratto Per esempio Franco Massetti Mi raccontò Che una sera Dai Frank Fra una settimana C'è l'esame E noi siamo ancora qui A non riuscire a capire La dimostrazione Di questa formula Non è poi così semplice Hai ragione Ma dobbiamo già Darci da fare Con il teorema di Betty Il principio Di sovrapposizione A degli effetti Non è applicabile Al lavoro di deformazione Non mi è chiaro L'ultimo passaggio Fa anche un caldo Allucinante Certo che l'idea Di dare la terribile scienza Nelle costruzioni Nella stessa Edestiva Poteva venire Soltanto noi due Se è così caldo Togliti la camicia Tanto ormai è nottefonda Anzi me la tolgo anch'io Così ci rinfreschiamo un po' Avanti Buonasera ragazzi Buonasera signora Ciao papo Ho fatto un po' tardi Stasera il giornale E rincasando Ho visto che avevate ancora La luce a cesare Siete ancora Le prese con lo studio Eh già si Bene bene E come va con la preparazione Se non mi sbaglio L'esame fra otto giorni Giusto? Dillo tu Frank Forse ho capito Cosa significa Questo età di Vabbè signora Signore abbiamo studiato bene La geometria delle aree La cinematica Poi la statica Dei sistemi di travi Sappiamo risolvere bene I problemi con le strutture Isostatiche Per le iperstatiche Beh abbiamo ancora qualche dubbio Ma Bene 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 Vedo che vi state impegnando Avanti Che una volta che avrete finito Potrete rendere migliore il mondo Vero? Speriamo Sì Bene bene Ora vi lascio Però tra un po' Andate a manno Sì sì Promesso Bene Bene Allora Franco Arrivederci e buonanotte Arrivederci signore Ciao Giorgetto Ciao Pier Giorgio scelse i poveri Ma non rifiutò Ne mai condannò la vostra famiglia Signor Frassati Provò amore per i poveri E la povertà Intesa come sobrietà Temperanza Uso dei beni senza spreco In realtà Lei ha provato per suo figlio Un sentimento che non ha mai provato Per nessun altro E questo attaccamento Le fece nascere dentro La volontà di modellarlo Secondo i suoi desideri Di far la sua immagine e somiglianza Soltanto più tardi Comprese che colui che gli aveva sottratto Era stato Dio E Dio l'aveva plasmato Secondo i suoi desideri Quando lo capì però Ormai la partita era chiusa Perché lo sa bene Con l'amore di Dio Non c'è gara Carissima Eminenza Come lei sa bene Un capitolo importante Della vita di mio figlio Fu rappresentato Dalla politica Partecipava A molti comizi Di studenti E operai cattolici Lui Voleva che le classi politiche Si occupassero In maniera attiva Delle classi più povere Ed è per questo Che aderì Con tanto entusiasmo Al partito popolare Di Don Luigi Sturzo Prendendo anche la tessera Nel periodo in cui ero Ambasciatore in Germania A Berlino Lui si preoccupò molto Di come i politici Si occupavano Delle classi più disagiate Come ad esempio I suoi cari minatori Ma è in Italia Che dovette scontrarsi Con quel potere nascente Che proprio in quegli anni Divenne dittatura E che avrebbe poi Portato il nostro paese Alla rovina In quel tempo Il fascismo Fu la risposta Al comunismo rivoluzionario Ma i due termini Ormai erano analoghi E non si cura Una follia Con una pazzia Nulla Ci ripudiava di più Che la violenza Rivestita di diritto Italia che la storia E Dio ti han voluta Guida di nazioni Da tutti te muta Io ti renderò Tu voglia o no Asbra e dura Come il cuore che ho Gloria e onore Al fascio Gloria e onore Al fascio In Italia tu esigi Disciplina virile E con la violenza Sacra e morale Io combatterò Distruggerò La democrazia Che tanti danni causò Gloria e onore Al fascio Gloria e onore Al fascio E con la violenza E con la violenza E con la violenza Criatò La violenza Gli taglia io le masse non omaggerò Alla ragione è contrario al numero Chi ci salterà, luce avrà Per chi si oppurrà a nessuna pietà Gloria e onore al fascio Più forza Gloria e onore al fascio Ancora Gloria e onore al fascio Per l'Italia Gloria e onore al fascio Per il duce Gloria e onore al fascio Vincere Gloria e onore al fascio E vinceremo Basta con questo sfruttamento Siamo stupidi Non entreremo mai in fabbrica per lavorare Se voi non aumentate il nostro stipendio Come facciamo a sopravvivere? È una vergogna Giusto e questa sera entreremo dentro Occuperemo lo stabilimento Così capiranno i colletti bianchi Guardate di non essere stupidi Andiamo in fabbrica Allora qui succede un gran casino Non hai dignità Ma no sei tu che la ragione deficiente Miscia pure la testa Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come il cielo Così in terra Daci ogni giusto Allora Ci vediamo questa sera al Savonarola Cerchiamo di capire come fare per uscire da questa situazione Speriamo Pier Giorgio Speriamo Murentum a travaglia Scusa Ma siamo un po' tutti agitati Grazie mille Pier Giorgio A questa sera A questa sera Cari amici Condivido le preoccupazioni che portate nel cuore Tutto è causato dallo spregevole denaro Pagato dagli industriali E purtroppo dal nostro governo Oggi si agisce solo più sotto l'impulso della moneta E della disonestà E io sono ogni giorno più stomacato E se non avessi la certezza Che la mia fede è divina Mi abbandonerei anch'io A qualche atto violento Ma noi Abbiamo la fede Di una vita migliore Che ci attende Se lavoriamo per il bene E quindi all'opera E teniamoci uniti insieme Per confortarci E spronarci Dinanzi a me Tengo sempre il ritratto Di quel meraviglioso ministro di Dio Che è Don Luigi Sturzo E nei momenti di sconforto Attingo oltre che dalla religione Anche da lui La forza per proseguire nella via evangelica Abbiate fiducia Vedrete che il futuro sarà migliore Belle parole per Giorgio Ma non riusciamo a vedere un futuro per noi così Alena Masna E' puro Ma per noi questa è una situazione insostenibile Sapete che vi voglio bene Come voglio bene I contadini ai quali bisogna dare la terra Ma non è concepibile oggi Dividere la vita dalla fede Non è concepibile oggi Che il cristiano adotti nella politica Nell'economia Nei rapporti sociali Principi diversi da quelli contenuti nel Vangelo Don Sturzo Ha detto che la vera democrazia Risiede nel Vangelo E il cristianesimo Per mantenersi Ha sempre bisogno Della complementarietà Tra cielo e terra Certo certo ma Vincere il male con il bene Vivere onestamente al giorno d'oggi E' uno sforzo veramente grande E poi tutti quei parlamentari di Roma Non muoveranno un dito per noi Ma faciliteranno la strada ai padroni Conservatori vecchi e stango Conservatori Giusto A quelli manderemo alla naftalina Così si conservano anche meglio La via degli onesti E' la più difficile Ma è anche la più breve Per raggiungere quella nel cielo Ricordiamoci nelle nostre preghiere Stiamo accanto l'un l'altro Grazie Soprattutto per il tuo coraggio Non è facile per te E' sposti così Non ti preoccupare Buonanotte Buonanotte Vede Monsignore Mio figlio E' stato descritto come rude e spigoloso Perché Le mezze misure Le misure diplomatiche Non facevano per lui Tuttavia Era un uomo libero Dovette subire Un'amara delusione Quando il momento Il giornale Per cui si dava da fare Si vendette al fascismo Tuttavia Riuscì a mantenere la calma Ma alla fine Dovette Difendere la sua stessa famiglia Dalla violenza A cui venne fatta oggetto A causa del mio schietto Dire di no Alla dittatura nascente Allora Giorgetto Cosa fai oggi? Devo andare a mettere Al Politecnico I manifestini Per una dolazione Solo che Ormai è una vera impresa Ma gli altri ragazzi Non vogliono vedere Quei fogli Vero? Già Generalmente Riescono sempre a bruciarli O almeno a renderli leggibili E' una situazione difficile Anche nelle aure Per fortuna In facoltà Diversi professori Ci difendono Figliolo Devi darti una calmata Altrimenti potresti incontrare Dei seri problemi Calmo mamma Calmo E come faccio? Ieri ho dato uno sguardo Al discorso di Mussolini In Parlamento E tutto il sangue Mi ribolliva nelle vene Sono rimasto deluso Dal contegno dei popolari Quando si tratta di salire Per gli onori del mondo Le persone calpestano La propria coscienza Buongiorno Che cosa è la giusta? No Mi dispiace E' assento I biacchi Assassini Che cosa volete? Andate via! Via! Pier Giorgio Pier Giorgio Bambino mio Come stai? Calmo mamma Con questi Sono gente senza pudore Dai visti Dopo i fatti di Roma Dovrebbero vergognarsi Di essere fascisti Tranquillizza ti godo Aspetta Vieni a sederti un attimo Ora Sono le ultime prodezze Le prodezze dell'agonia Perché ormai Perché ormai è talmente marcio Il governo Che se non intervengono Prontamente i chirurghi A tagliare la parte Andata in cancrena Non ci sarà più speranza Pier Giorgio Si è comportato in maniera eccellente Sangue freddo Ha allontanato la mamma Ed ha picchiato sodo E' proprio una magnifica creatura Quando son tornato a casa Gli ho detto Bravo Giorgio Fai sempre il tuo dovere Come se gli avessi detto Comprami il giornale Imitalo in tante cose E ti troverai contenta In tante cose Ci hanno fatto credere Che il fascismo Sarebbe stata la soluzione A tutti i mali dell'Italia Che avrebbe riportato Roma Ai fasti dell'antico impero Che grazie a loro Saremmo stati un nuovo popolo Una nuova nazione Una nuova civiltà Invece Il loro colore nero Ben si addiceva Al nostro domani I tempi che stiamo vivendo Sono difficili Perché la Chiesa è perseguitata Ma noi giovani coraggiosi Non temiamo La Chiesa è di Dio E non può finire Le porte dell'impero Non prevarranno mai Non vediamo la Chiesa di Dio Dove è il nostro pudore? Dove è l'angelo amore? Occhi spenti e appassati Attentità Quei luci che vengono a voi come agnelli buoni Che in realtà sopprimono la libertà La mafia, poi voragini, menti scosse da incubi Violenze di moralità, voci stransate dalla nuova civiltà Che in realtà sopprimono la libertà Se aprivi l'angelo in cui riscopriamo noi Tu sei creatura di Dio L'inquietudine ti fa sognare Del padre al volto vuoi la sua realtà Una fiamma accesa nel più cultivo A presto stirare via dentro di noi La democrazia nasce solo da L'ospiro ininterrotto fra terra e cielo E' la nuova civiltà La morte e l'ultimo dura Sangue versata in nome della gloria ci traccinerà A terra E' la nuova civiltà E' la nuova civiltà E' la nuova civiltà E' la nuova civiltà Sangue versata in nome della gloria ci trascinerà A terra E' la nuova civiltà E' la nuova civiltà E' la nuova civiltà A morte e l'ultimo dura Sangue versata in nome della gloria ci trascinerà A terra E' la nuova civiltà 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 Torino, gennaio 1925. Carissimo Marco, la pace sia nel tuo animo. Siamo nell'anno santo ed io ti porgo un ramo d'olivo, simbolo di quella pace che vado insistentemente cercando e che manca al mondo. Bello è vivere in quanto al di là c'è la nostra vera vita, altrimenti chi potrebbe vivere se non vi fosse un premio alle sofferenze. Caro Marco, quanta miseria vedo e purtroppo la gente buona soffre. Mentre noi, che siamo dotati da Dio di molte grazie, abbiamo corrisposto in malo modo. Mi domando senza sosta, avrò la forza di continuare? Avrò la forza di arrivare fino in fondo? Fra questi dubbi, la fede datami nel battesimo mi suggerisce con voce sicura che con Dio tutto volge al bene. Porri disgraziati, quelli che non hanno una fede. Vivere senza una fede, senza sostenere la verità, non è vivere, ma vivacchiare. E sebbene il nostro cuore prova dolore per l'allontanamento degli amici che amiamo, io vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce i limiti temporali, l'unione nella preghiera. Allegro esteriormente lo sarò sempre. Essere cattolici vuole dire essere giovani e allegri. Ma internamente, quando sarò solo, darò sfogo a tutta la mia tristezza. Il 1925 è l'anno in cui Pier Giorgio ha imparato a portare il peso della croce di Cristo nella sua vita. L'amore l'ha maturato psicologicamente, facendogli abbandonare l'età adolescenziale. Diventato uomo, la sua fede si è fatta più forte, più robusta. Ora conosce direttamente la sofferenza. Gli ultimi pesanti esami da sostenere per arrivare alla laurea tanto sognata. Il padre, che gli chiede indirettamente di abbandonare il suo sogno professionale e cristiano per lavorare con lui nella stampa. E poi la sorella Luciara, che sposa un diplomatico polacco e lo lascia solo in casa. Solo a sostenere un peso incredibile nella famiglia che sta per sgretolarsi. Consapevole che solo la sua presenza può allontanare l'ombra incombente di una separazione dei genitori. E così, l'amore per Laura venne sacrificato. Ciao, Pantellino. È giunto il momento dei saluti. Devo partire per l'aria con Gianni. Sono contento per te e il tuo sposo. Ma insieme alla gioia di vederti felice c'è l'amarezza del distacco. Ora dovrò riempire il vuoto che tu lascerai in casa. So che ci riuscirai. Farò del mio meglio. Una sola richiesta, Luciana. Scrivimi sovente. Ora che molti chilometri ci separano, ho capito cosa vuol dire una sorella in una casa. E quale vuoto può lasciare la sua partenza. E con Laura, cos'hai deciso di fare? Eri presente anche tu all'incontro con mamma di qualche settimana fa. Laura è stata trattata per quello che la mamma vede in lei. Un'orfanella impegnata, capace, ma pur sempre una ragazza non all'altezza della nostra famiglia. Sono innamorato. Ma cosa dovrei fare? Scriverle? Telefonarle? No. E poi perché distruggere una famiglia per crearne una nuova? Ci vuole tutta la tua bontà, tutta l'onestà e forza per agire in questo modo. Ma non posso agire diversamente. Perché non voglio lasciare solo la mamma. Ancora una piccola cosa. Nella tua nuova casa metti in bella mostra il mio crocifisso. Sai, è stato benedetto dall'arcivescovo in persona. Ma hai visto che espressione negli occhi di papà quando me l'hai portato al matrimonio? Un giorno capirai, Luciana. Ciao Pier Giorgio, come stai? Eh, non benissimo. Studio. Ti capisco molto bene. E con Laura? Ho saputo da Marco che hai deciso. Ho bisogno di preghiere. Perché se voi mi starete accanto potrò ottenere da Dio quella grazia di cambiare quell'affetto speciale che avevo per lei alla luce della carità. Cambiarlo in amicizia, nel senso cristiano. A me pare una follia, ma ne hai parlato non coi azzi. Mi ha detto che il cristianesimo non è il rimanere insensibili. Non comanda né l'indifferenza né la distruzione del sentimento. Ma in me vuole che le esigenze del cuore siano mantenute nei dovuti limiti. E tu cosa gli hai risposto? Si è fatta la volontà di Dio. L'avvenire è nelle sue mani. Pregherò, te lo prometto, perché la tua vita futura sia modellata dal Signore e si realizzi la tua reale vocazione. Già, la vocazione. Ho la sensazione che la mia vita mi stia lentamente sfuggendo di mano. Che cosa farò dopo gli studi? Il sacerdote? No, perché è una missione troppo grande e io non ne sono degno. Il matrimonio? No. L'unica soluzione sarebbe che il Signore mi prendesse con sé. Dai, ora andiamo dai nostri poveri, che il fare giova sempre. E poi sono l'unico impegno che posso mantenere con gli esami da preparare. Signorino, buongiorno. Domenica? Dove si va? Beh, credo a fare una gita in montagna. Ah, felice lei che se la gode. I quattrini non mancano mai. Automobile di istruzione, presto ingegnere. Che cosa vuole di più? Lei, Italo, è sempre folle lo stesso. Nei quattrini non mi interessa. E invece, se sapesse quanto amerei avere 80 anni. Ma perché? Perché se avessi 80 anni morirei prima e andrei subito in cielo. Ma come farebbero i tipiloschi senza Robespierre? Beh, gli aspetterei tutti in paradiso. Sempre voglia di scherzare lei. Ma adesso stanno andando alla consolata, vero? Sì. Oggi è un giorno importante per la chiesa di Torino. La salma di Don Caffasso sarà trasferita nel santuario. E io non posso mancare. A presto, Italo. A presto, per giù. E così, Pier Giorgio, il 20 giugno 1925 raggiunse in fretta la lunga sfilata della processione sistemandosi in una tribuna con i suoi amici. Testimoni mi hanno raccontato di averlo visto in ginocchio, in preghiera e col volto trasfigurato. Certo, nessuno se non Dio stesso sa che cosa ha chiesto in quel momento. E' innegabile che nel suo cuore c'erano molte preoccupazioni e sofferenze, soprattutto per i genitori. Per scongiurare la loro separazione, un giorno disse di essere disposto a sacrificare la propria vita. E chissà, forse quell'offerta venne benedetta dal Signore. Oggi nelle lotte non posso che ringraziarti, Padre, perché nella Tua infinita misericordia hai voluto concedere al mio cuore questi dolori affinché io ritornassi ad una vita più spirituale. Io l'ho vissuto finora troppo materialmente, ma ora con il Tuo aiuto sto ritemprando lo spirito per le lotte future, perché d'ora in poi, ogni giorno e ogni ora sarà una nuova battaglia da combattere ed una nuova vittoria da conquistare. In questi mesi, nelle mie lotte interne, mi sono spesso domandato perché avrei dovuto essere triste, soffrire, sopportare a malincuore il sacrificio, o forse perso la fede. No, la mia fede è ancora abbastanza salda e questa è l'unica gioia, l'unica vera gioia per la quale posso sentirmi realizzata in questo mondo. Se in questi momenti in cui il mio animo attraversava questa crisi io avesse avuto la disgrazia di non credere, nulla avrebbe avuto più senso e solo la morte sarebbe stata consolazione al mio soffrire. Io credo, Signore, ho fiducia nel Tuo amore, mostrati agli occhi dei miei genitori come ti mostri ai miei. Scrivi sulle pagine delle loro vite parole di amore, qualunque via vorrei farmi percorrere per ricreare questa pace. Eccomi, sono pronto. il visto è un'ambito. No, non è sorprendente. non è sorprendente. No, Quando la croce è l'ombra, la terra appare vuota e morta. Quando la croce è l'ombra, il gelo bussa e tra il giagio la morte cerca spazi in me. Doclinati perché un raggio vuole questa croce. Fermo nel nudo dolore, le mani offerte a pregare per questa famiglia che muore domani. Che cosa sarà di me? Sarà di me? Sarà di me? Sarà di me? Quando la croce abbassa voce, sussurra pace e il mondo tace. C'è buio pezzo dentro noi, tu offrimi se vuoi in questa croce una risposta. Fermo nel nudo dolore, la vita batisce in terrore. Per questa famiglia che muore mi tiene lontano nel mio sperare. Ma la croce è via del Signore, me stesso negare per farmi plasmare d'amore, soltanto d'amore. Un giorno so, l'inverno umano se ne andrà da qui, la primavera è soglia del risorgere. E l'abbandono folle, tanto folle, così folle, l'abbandono in te davvero folle. Ora guida il tormento, lungo il calvario son pronto. Salgo in croce perché so che sei al mio fianco, qui al mio fianco. E fermo nel nudo dolore, nell'animo la compassione. Per questa famiglia che muore e porta rancore. Tu fammi sognare, tu con te nel mio sperare. In questa mia vita che amara ma vuole donare, ma vuole donare. La mia vita è un foglio bianco che tu rendi santo, scrivi tu il mio oggi. Io sono pronto, non posso non sentire due di queste ferite. Temere che è finita, sangue che si versa su ogni strada, ogni sentiero ed ogni sasso. E la speranza tiene col corpo passo a passo. Questi anni che noi abbiamo scritto assieme, conducono quest'uomo che non vede. E ti hanno tocchi colmi di tristezza, che sanno supplicare le tue carezze. Ti prego Dio mio Dio queste mie pene, son pronte a metterla però alla fine. Ad una vita che non vuol morire, sguardo verso venti ed infinito. Un senso in questo andare affaticato, ma sono amato, tu m'hai creato. E penetra nel cuore il tuo calore. E l'alto croce luce nello spazio, nel buio scorgo chiavi il tuo raggio. Degli incertezze in me non c'è più traccia. E la mia vita un foglio bianco che tu rendi santo. Lo scrivi tu la fine. Io sono pronto. Ti ho visto con un amico l'altro giorno. Avevi proprio l'aria dello straccione in confronto a lui. Ma si può andare in giro vestiti in questo stato? È un periodo in cui sono un po' stanco. Forse ho perso un po' di peso. Vedi almeno di darti una sistemata. Lo sai che abbiamo altro a cui pensare con la nonna che sta male? Sì, papà. Ma lo sai che parlano di te anche dei pulpiti? Sì, sì. Lo ha detto Don Borla. Tutte sciocchezze. Ora devo andare un attimo da Francia. Torno subito. Ma perché il bastone? Sto invecchiando. Ci vuole pazienza. Ma per un giovane di 24 anni quei malesseri non erano provocati da vecchiaia, ma da un male che stava per invadere il suo corpo, già provato dagli ultimi mesi. Sudore, insonnia. Tutti pensavano ad una banale influenza. Pier Giorgio rinunciò al lamento. Rinunciò a una mano familiare che stringesse la sua. Anche le ore estreme furono un segreto tra lui e Dio. Come della sua vita i familiari ignoravano tutto, così ora nessuno di loro conosceva la strada verso il calvario che stava percorrendo nel letto. È morta la nonna. Dispiace, poverina. Esther, perché di te povera nonna? Io penso alla mamma. Penso a coloro che restano. Non riesco a dormire. Dica il rosario. Si addormenterà? Ho già detto uno. Non mi sono mai sentito così. Mandatemi il dottore Alvazzi. Mandate Italo chiamarlo. Italo ha avuto la febbre. Lasciamolo dormire. E il dottore ha vegliato fino a tardi la nonna. Verrà. Figliolo. Figliolo. Vieni a dare l'ultimo saluto alla nonna. Vorrei. Ma non posso. Non so nemmeno se sto bene o male. Ma temo un po' peggio. Bambino mio. Bambino mio non ammalarti. Ho paura. Quando mi alzerò mamma? Aspetta. Oggi è venerdì. Sabato ti alzerai domenica. Ma ti dovrai vestire a lutto per il funerale della nonna. Povera mamma. Ti do anche questo dispiacere. Ma no. Ho solo bisogno anch'io di riposare. Aspetta. Lo faccio qui. Vicino a te. Ma no mamma. E se poi ti contagio. Non sappiamo ancora cos'ho. Bambino mio. Non lo sai che le mamme non si prendono mai le malattie dei figli. Finalmente il dottore arrivò. Chiese a Pier Giorgio di alzarsi. Ma lui confessò di non farcela. Poco dopo giunse la diagnosi. Come una ghigliottina sul capo di tutti. Pogliomelite fulminanti. Forse presa mentre assisteva uno dei suoi poveri in una vecchia soffitta di Torino. Sono grave Don. Si. Offri a Dio questa sofferenza. Per i tuoi peccati se ne hai. Altrimenti per quelli di mamma e papà. Mi sento molto stanco. Molto. Molto di più. Giorgio. E se la nonna ti chiamasse in paradiso? Come sarei contento. Ma papà e mamma. Tu non li abbandonerai. Dal cielo vivrai in spirito con loro. Darai loro la tua fede. Continuerete ad essere una sola famiglia. Coraggio. Aiutami a fare il segno di croce Don. Gesù. Giuseppe. Maria. So io. Spiri in pace con voi l'anima mia. Mi perdonerà il Signore. Perdonami. Giorgio. La tua anima è bella. Gesù ti vuole con sé. Il papà Alfredo andò ancora una volta nella chiesa della crocetta. Per un'ultima preghiera. Ci udirono pianti. Invocazioni strozzate. Il giorno prima di morire, con la mano ormai paralizzata, Pier Giorgio scrisse il suo testamento. Ecco le iniezioni di Converso. La polizza e di Sappa. L'ho dimenticata, rinnova la mio conto. Chi erano Converso e Sappa? Erano due assistiti della San Vincenzo seguiti personalmente da Pier Giorgio. Anche il suo ultimo pensiero fu ancora per i poveri. Il 4 luglio 1925 risuonarono nella cameretta di Pier Giorgio le sette del mattino e i presenti sentirono come un vento misterioso. Il cuore del giovane smise di battere su questa terra per battere eternamente in cielo. Scrisse la domestica Esther su un calendario. Pier Giorgio era un santo e Dio lo ha voluto con sé. La terra d'acqua su mi appare maestosa. Dall'infinito blu abbraccio ogni cosa. Vedo il mio papo venire vicino a me, bagnato il volto dalle lacrime. Ecco arrivare chi non sa neanche il tuo nome. Sono i tuoi poveri, i tuoi muri di cuore. Il nome che hai portato per sempre brillerà. L'hai scritto in cielo con la carità. Accanto alla mamma, Luciano e il suo Jean. Compagna infinita, Marco e Laura. Sento un soffio caldo che invade la città e si scopre un suo cuore. Mi hai conquistato in cielo con il suo cuore. Lo sguardo sale su con il mosso anche il suo cuore. Da Dio e dal suo amore nulla mi separerà. Dio e dal suo amore. 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 Nessuno in famiglia si era accorto della luce che emanava una simile creatura. Dovevano perderlo per ritrovarlo. ricevettero omaggi, riconoscimenti, una quantità smisurata di lettere da persone sconosciute che rivelavano la grandezza e la santità di Pier Giorgio. Due giorni dopo proprio gli amici portarono a spalle il feretro dalla casa alla chiesa della crocetta. C'era una folla immensa. Migliaia di persone erano giunte da ogni parte di Torino richiamate non dal cognome ma dal nome. Pier Giorgio. E anche il tram dovette fermarsi per dare spazio alla gente che voleva avvicinarsi alla bara per toccarlo. Alla sorella Luciana parve di camminare come sollevata da terra. Ed era certa che dietro Pier Giorgio avrebbero camminato per tutto il resto della loro vita. Il porticino della stampa si chiuse per l'unica volta quel giorno. Non era morta una personalità. Non era morta una celebrità. Era morto un giovane studente all'alba del suo impegno nel mondo. E agli occhi del mondo quello che capitò quel giorno fu un mistero. Agli occhi di chi lo aveva conosciuto quel giorno fu il giusto riconoscimento di una creatura che seppe vivere secondo il cuore di Dio. La corsa dei giovani dietro alla vettura con il corpo di mio figlio dalla crocetta verso il biellese assunse ai miei occhi il simbolo della vita rinata di Pier Giorgio. Era un santo. Oggi lo riconoscono tutti. quel giorno la mia vita parve finire. Avevo... avevo tutto. Per cinquantasette anni sono stato l'uomo più ricco di Torino. Da quel giorno ho perso tutto. Nessuno ha mai capito cos'era Pier Giorgio per me. Lui era il mio orgoglio, era la mia speranza. Vedevo moltiplicato per miliardi in lui quel poco di non malvagio che c'era in me. Lui che nelle ultime lettere scritte alla sorella Luciana disse... Tu mi domandi se sono allegro? E come potrei non esserlo finché la fede mi dà forza sempre allegro? Ogni giorno di più comprendo quale grazia sia essere cattolici. La tristezza deve essere bandita dagli animi cattolici. Il dolore non è la tristezza che è una malattia peggiore di ogni altra. Il motivo per cui noi siamo creati ci indica la via che, seppur seminata di molte spine, essa non è una via triste, essa è allegria anche attraverso i dolori. Nel nostro secolo Pier Giorgio Frassati, che a nome della Chiesa oggi ho la gioia di proclamare beato, è diventato così il testimone vivo e il difensore coraggioso di questa speranza a nome dei giovani cristiani del secolo XX. Nella sua esistenza la fede si fonde con la carità, saldo nella fede, fattivo nella carità, poiché la fede senza le opere è morta. Il gusto del bello, dell'arte, la passione per lo sport, per la montagna, l'attenzione ai problemi della società, non gli impediscono il rapporto costante con l'assoluto. Egli proclama con il suo esempio che è beata la vita condotta nello Spirito di Cristo, Spirito delle beatitudini. Testimonia che la santità è possibile per tutti e che solo la rivoluzione della carità può accendere nel cuore degli uomini la speranza di un futuro migliore. Stupende sono le opere del Signore. Sì, stupende sono le opere del Signore. Pier Giorgio Frassati si iscrisse al Politecnico di Torino nell'anno accademico 1918-19. Affrontava lo studio con grande serietà. Aveva scelto il corso di laurea in Ingegneria Mineraria perché desiderava lavorare a fianco dei minatori, categoria professionale tra le più sfruttate e meno garantite dell'epoca. Al momento della morte doveva ancora sostenere l'esame di tecnologia mineraria col professor Aldo Bibolini sotto la cui direzione aveva iniziato a preparare la tesi e quello di misure elettriche. Si chiuse prematuramente una vita in cui era ben presente anche il senso della responsabilità verso la singola persona in difficoltà vissuta con un impegno personale intenso quanto discreto che verrà conosciuto appieno solo dopo la sua morte. una personalità ricca, complessa, forte, formatasi anche nelle nostre aule e nell'impegno che il Politecnico gli richiedeva che fa di Frassati una figura significativa nella Torino del XX secolo conosciuta e amata in Italia e nel mondo. Quando si leggeranno queste righe io sarò là dove avrei voluto essere dal 4 luglio 1925. Mi pare inutile ricordare che voglio essere sepolto vicino a lui, al mio dilettissimo, al miglior figlio che mai sia esistito al mondo e nessuno mai sarà stato più di lui pianto e rimpianto perché nessuno è mai stato né sarà mai come lui. Desidero inoltre che sul mio corpo, assieme al crocefisso, sia messo un ritratto di Pier Giorgio e così pure la camera dove riposerò le ultime 24 ore deve essere piena di ritratti di lui che il ricordo di lui così vivo in migliaia di cuori non si attenui mai in tutti i miei eredi i quali devono cercare di imitarlo nelle ore dolorose lo invochino e sia loro compagno nelle ore felici desidero che la sua tomba sia sempre fiorita. Come avrei voluto che tu mi fossi vicino nell'ora del trapasso e come sarei stato felice se avessi potuto vivere con te in tutti questi lunghissimi anni. Addio Giorgetto mio, quando si aprirà il testamento io sarò con te per sempre. Questo giovane vi ha rivelato che ogni mattina è un dono preparato dalla fantasia divina. Dio vi dà una giornata che è un capolavoro da lui stesso creata, preziosa come l'oro. Non è cifra, non è grigiore ogni giorno che bussa se in tessuto d'amore diviene eterno e più non passa. Ah, poteste la mano di Dio osservare plasmare ogni vostro secondo sono certa che voi tutti vorreste conoscere, amare, servire questo mondo. Ora vi lascio, torno in paradiso e Pier Giorgio con me a cosa vi chiama? Accogliete e custodite di ogni uomo il sorriso con il sorriso nel cuore perché Dio vi ama. Perso nella vanità senza un senso la realtà la realtà la realtà improvvisai per una voce che disse di sé. che mi 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 Che vuoi qualcuno che le lacrime accolga i fiori, asciughi e le stringa se Tu non sei solo, io ti conosco, in te muoio e poi rinascosto La mia grazia è scesa su di te, la più ammirata di tutte le persone Tu ne sei, tu splendido miracolo, come un prodigio ti ho creato, tu splendido miracolo I pianti di tuoi geniti sono sollevati a me da mai Di un ragazzo tutti guidati in frontezza e chiamato Eeeh, piaccio a gioia, un miracolo, eeeh, come prodigio ti ho creati, eeeh, coi splendido miracoli Eeeh, vi ho fatto per l'eternità, eeeh, usciti nella santità, eeeh, potenza della carità Eeeh, per te la via della vita, eeeh, per te la via della vita Eeeh, per te la via della vita, eeeh, per te la via della vita Eeeh, per te la via della vita, eeeh, per te la via della vita Eeeh, per te la via della vita, eeeh, per te la via della vita Eeeh, per te la via della vita, eeeh, per te la via della vita Eeeh, per te la via della vita, eeeh, per te la via della vita E' un miracolo, e' un miracolo, e' come prodisi vi ho creati, e' questi divini miracoli, e' vi ho fatto per l'eternità, e' uniti nella santità, e' vi ho fatto per l'eternità, e' potenza della carità. E' un miracolo, e' vi ho fatto per l'eternità, e' una tua fragilità, questa va mi διαviscerà, l'eterno in te si aprirà. L'eterno in te si aprirà. è un miracolo è un miracolo e la parrocchia di Santa Giulia per l'accoglienza e per l'ospitalità e la signora Vanda Gavronska che ci ha onorati della sua presenza un grande applauso a tutti e in particolare al gruppo musicale Green New League ai tecnici, agli scenografi, alle costumiste e alle truccatrici al corpo di ballo e alla sua Martina a tutti gli attori e fra questi i tipi loschi il papà Alfredo e il nostro protagonista Pier Giorgio e il cardinal Montini nonché sceneggiatore e registra abbiamo legato la divina sapienza ma più grande applauso a voi comunque si fa e per te la via della vita e per voi la strada infinita e per te la via della vita e per voi la strada infinita e per te la via della vita e per voi la strada infinita e per te la via della vita per Giorgio è un miracolo e per me prodigi Vi ho creati e costretti di miracoli e vi ho fatto per l'eternità e uniti nella santità e vi ho fatto per l'eternità e potenza della carità e vi ho fatto per l'eternità nella tua fragilità. Questa famiglia fisserai l'eterno in te si aprirà. L'eterno in te si aprirà. È il miracolo. È il miracolo. Grazie. Grazie! Compagnia di Pilotsky! 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 Zaino in spalla, scia a tracolla è una molla che mi fa alzarne 5 di mattino e monti da Torino la neve mi elevo prima santa messa dono e volontà poi a porta nuova tutti sopra il treno urla e cagnara questa è felicità noi tipo i Pilotsky ai nostri posti ora si parte! sempre più su! terza classe come sassi i sedili ci ridiamo su con rosario in mano ci avviciniamo al cielo mi elevo mi elevo mi elevo mi elevo mi elevo in cima senza fiato mi elevo Non sarò un campione, beh, per ogni nome alle Olimpiade un giorno arriverà. Noi tipi loschi, ai nostri posti, ora si parte sempre più su. Chi creato ammiro, chi ha creato, Dio benedizione in me. Noi tipi loschi, ai nostri posti, ora si parte sempre più su, sempre più su. Sempre più su, sempre più su. Tu e Dio, tu in Dio, noi con Dio soli non si è mai. Un giorno anche lontani, unirò le mani nel cielo, mi elevevo. Robes per Petronio, tanto ne perro. Decretiamo il patto che nel cuore nostro verso la tristezza non c'è nessuna pietà. Noi tipi loschi, ai nostri posti, ora si parte sempre più su. Da te non farai nulla, ma se Dio avrai per centro di ogni tua azione, allora si arriverai fino alla fine, 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 in Dio. Grazie.